I volontari di protezione civile rivestono un ruolo importante durante un'emergenza e sono tra i primi ad essere attivati. In Italia oltre un milione di persone ha a disposizione per tali emergenze ed è fondamentale che chi è impegnato a fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi come un terremoto, un incendio di grandi dimensioni, allagamenti, eccezionali nevicate, emergenze sanitarie, solo per fare alcuni esempi, sia preparato adeguatamente. L'associazione Infiniti di Pescara, attiva dal 2013 sul territorio insieme a numerosi enti no profit come l'Agbe, l'Ail e il Telefono Azzurro, organizza anche quest'anno un corso base per aspiranti volontari di protezione civile che abbiano un'età minima di 16 anni. Il corso si terrà dal 17 al 19 maggio nella sede di Via Polacchia al numero civico 19. La partecipazione è gratuita, spiega Florinda Janigro. Per iscriversi basta telefonare ai numeri 342 7520 734 oppure 328 212 4814. Facciamo parte anche della colonna mobile Modavi, collaboriamo con la protezione civile, siamo intervenuti in numerosi eventi calamitosi come il terremoto dell'Emilia Romagna, il terremoto di Accumoli, Saletta, Sant'Angelo in Pontano, Norcia, Cascia, ma non solo, anche emergenze come ricerca dispersi. In cosa consiste questo corso? Serve per far conoscere la protezione civile, imparare il comportamento in emergenza, l'autoprotezione o l'utilizzo di radio ricetrasmittenti e anche conoscere un po' di antincendio. Per poter partecipare l'iscrizione è gratuita, sono già pervenute diverse richieste? Sì, assolutamente sì. Il costo del corso è totalmente a carico dell'associazione. Il corso inizia venerdì 17 e stiamo ancora accettando iscrizioni senza alcuna difficoltà.